Sì, l'arcobaleno nella nuvola di qualcuno. Io voglio oggi essere il tuo arcobaleno con l'acquisto di questo bellissimo appartamento che ti porterà tanti colori nella tua vita e in quella della tua famiglia. Ciao, sono Raffaella Rizza e oggi ti presento un'unità immobiliare molto peculiare perché le dimensioni sono davvero ampie. Un trilocale di 105 metri quadrati quindi significa già un quadrilocale e scendendo abbiamo una meravigliosa taverna che accede direttamente all'autorimessa e poi voi uomini se desiderate avete addirittura altra autorimessa doppia e un fantastico giardino di ben 500 metri quadrati. Adesso entriamo a guardarla. Siamo a Tradate in via Carducci al numero 19 in un intervento che è proprio stato chiamato il lavatoio per la sua origine e l'appartamento che andiamo a vedere è questo sulla mia destra. È servito da ascensore che va direttamente nell'interrato per le tue autorimesse. Seguimi, vieni a scoprirlo. Eccomi all'interno. Quello che si respira è questa luce tantissima perché abbiamo bene tre porte finestre che quindi illuminano un soggiorno davvero ampio di oltre 30 metri quadrati quindi questo ci permetterebbe addirittura di avere un'ulteriore camera o una grande ambientazione del soggiorno e cottura. Scopriremo dopo il giardino. Adesso continuiamo. Tutto è controsoffittato. Come vedete questi giochi di faretti sono fantastici. Questa zona soggiorno è eccellentemente divisa dalla zona notte e qui abbiamo la scala che scende in una fantastica taverna. Particolarità della cucina che adesso vedrete. Intanto per tutta la casa abbiamo delle porte a tutta altezza. Questa fantastica vetrata come vedete è bombata e la cucina è già compresa nel prezzo. Comodamente in quattro ci si mangia e dopo abbiamo un'ulteriore uscita con una porta finestra. Guardate quanto è bella la vista ed è davvero peculiare questa situazione. Prima di uscire nel giardino ricordati di iscriverti al canale, attivare la campanella, lasciarmi il tuo like e seguirci su tutti i social. E se tu venditore devi vendere il tuo appartamento prima meglio e senza stress contattami perché renderemo il tuo immobile protagonista del mercato immobiliare. Adesso andiamo in un giardino davvero importante, oltre 500 metri quadrati. Guardate intorno solo del verde ed è raro trovare negli appartamenti così tanto verde tra l'altro in piano. Quindi anche una piscina qua ci sta comodamente e adesso vi porto a vedere un'isola davvero interessante. per te che ami il barbecue, per te che ami grigliare e soprattutto per te che ami la convivialità con i tuoi amici. Guarda forno, barbecue, appoggio e addirittura l'acqua. E qua un meraviglioso tavolo dove franzare o cenare con i tuoi amici mentre i pargoli giocano felicemente. Mi lascio alle mie spalle un'oasi davvero verde e adesso ti porto nella camera da letto. Notate che ovunque abbiamo il parquet posato in diagonale. Eccoci in una camera da letto di ben 16 metri quadrati. è già in parte arredata e di conseguenza pronta per te. E tra le due camere abbiamo un importante bagno oltre 7 metri quadrati. e guardate la particolarità anche qui, ovunque parquet, i due lavandini, un importante vasca idromassaggio che potrebbe essere collocato invece un ampissimo piatto doccia per la funzionalità. e da qui cameretta anche lei molto ampia, oltre 13 metri quadrati, quindi un bel letto alla francese ci sta comodamente. Peculiarità, ogni camera ha la sua uscita sul magico giardino. Fantastico, una vivibilità unica. Alle spalle la zona notte, il soggiorno come abbiamo visto bellissimo, la nostra cucina e ora scendiamo tramite questa scala chiocciola nella fantastica taverna. Wow, che meraviglia e che particolarità. Vi faccio vedere subito questo riscaldamento, così a tutta altezza che abbraccia la colonna. Davvero unica e particolare. E questa ambientazione davanti a questo cammino è fantastico. Abbiamo delle finestre con delle ampie bocche di lupo e per te le tue cene con i tuoi amici in inverno. Guarda che spettacolo di cucina che puoi regalarti. Qui sì che passerai dei momenti davvero indimenticabili. E, caratteristica interessante, abbiamo anche un ampio locale lavanderia, quindi molto funzionale. E funzionalissimo l'accesso diretto all'autorimessa. Qui la comodità è davvero di casa. Ricapitolando, siamo attradati in via Carducci al numero 19 e avete visto un appartamento peculiare, perché potete venire con le vostre valigie e abitare già direttamente, perché tutto l'arredo che avete visto è già compreso nel prezzo e questa è tanta comodità. Vediamo la particolarità dell'immobile. Ben 105 metri quadrati, tutto su un piano, significa che se hai bisogno della camera in più, qua tranquillamente ti ci sta. Una cucina abitabile con la sua uscita, due ampie camere da letto dove due pargoli tranquillamente possono dormire e un ampio bagno. Un soggiorno che addirittura ha tre porte e finestre che conducono a un giardino di oltre 500 metri quadrati, che ha un angolo unico per te che ami stare all'aperto e pranzare o cenare con i tuoi amici. Abbiamo già il barbecue, il forno, un piano comodo d'appoggio, addirittura un lavandino per l'acqua. E non è tutto. Scendiamo tramite una scala e andiamo in un'ambientazione di 65 metri quadrati di una taverna molto particolare anche semplicemente dai radiatori. Funzionalità la sua, il locale lavanderia e ricordiamoci che nella taverna abbiamo anche il camino. Da lì possiamo accedere direttamente all'autorimessa singola e se vogliamo possiamo anche comprarne un'altra doppia. Quindi è una casa davvero particolare, comoda e funzionale. Ovunque questo bellissimo parquet posato in diagonale, anche nel bagno e questi giochi di controsoffitti sono davvero accattivanti e peculiari. Ti aspetto per venire a vederla e a comprarla. Ricorda che con Domus Tua è facile vendere ed è sicura acquistare che io possa essere per te il tuo arcobaleno della tua famiglia perché possa vivere momenti davvero unici e speciali di amore in questa casa. Grazie. Grazie.